Pubblico stupendo, affettuosissimo. Adesso introduco un altro solista d'eccezione, il maestro Pietro Cantisani alla chitarra classica che ci delizierà con brani di cui vi parlerà lui, che forse è meglio. Grazie. Grazie Giuseppe. Buonasera. Io devo ringraziare prima di tutto il vostro primo cittadino che mi ha chiamato, mi ha sollecitato ad essere qui stasera in questa serata che a prima vista sembra una serata dove ci sono tanti generi musicali ma noi musicisti diciamo che la musica è tutta compatibile pertanto benvengano queste iniziative che fanno lode alle nostre piccole amministrazioni, ai piccoli comuni della Lucania che sono sensibili al mondo della musica e poi ritrovare tanti amici musicisti tutti attorno ad un'unica manifestazione ci fa tanto tanto piacere. Inoltre il sindaco vi porto a conoscenza del fatto che l'amministrazione comunale è stata così sensibile verso la musica che da attivare un corso per il momento di chitarra e di tromba, di chitarra tenuto dal sottoscritto. Io stasera vi faccio ascoltare un paio di brani, un brano di Augustin Barrios Mangoré, La Cattedrale e vi faccio ascoltare di questo solamente l'andante religioso e l'allegro solenne e poi un brano di Maurizio Colonna dal titolo Incantation, un brano un po' più di carattere moderno e più mediterraneo. Allora il tempo di sistemare perché non abbiamo fatto neanche la prova del suono con ringrazio i fonici Giuseppe e tutto lo staff che ci danno il loro valido supporto. Un attimo di pazienza solamente. Grazie. 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 Grazie.